Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo tutorial vi voglio mostrare come premere il tasto A. Allora, prima di tutto avete bisogno di un pollice, poi dovete avere di vostra esposizione un Nintendo DS, 3DS o 2DS, un Gameboy, qualsiasi Nintendo che abbia il tasto A. Allora, prima di tutto, io ho un Nintendo DS Lite, cercherò di aprirlo, se riuscisse ad aprirlo, porca Eva, ecco qua. Ok, ho aperto il mio tasto, allora, ora bisogna andare qui.